Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e in questo video voglio mostrare degli esempi di inside bar, inside fake out, congestioni, che in linea di massima hanno tutte una struttura spesso simile nella contestualizzazione di quel mercato, di come si sta muovendo, dell'ambiente in cui siamo. Lo faccio oltre che comunque per una questione anche di ripetizione, di ripetere alcuni concetti che sono per il mio trading importanti, è perché molte volte noto che c'è un po' di poca abitudine a vedere il mercato in un certo modo, di cercare di interpretarlo proprio con i principi della price action ed ecco qui che alcuni che magari hanno provato comunque, sentono parlare di price action, dicono la price action è l'inside bar o la pin bar e basta, ovviamente riducono il tutto a questo e questo sinceramente lo noto anche in modo sbagliato di porsi verso questo metodo perché non è così e anzi nella semplicità della price action c'è però un approfondimento della contestualizzazione di mercato che va assolutamente visto e ancora dico però nella semplicità c'è un trading che è assolutamente fantastico da un punto di vista proprio operativo e profittevole, però ovvio che non tutti approfondiscono queste tematiche e magari preferiscono altri metodi. Però non voglio che passi il significato, cioè il price action che significa pin bar, inside bar è impossibile guadagnare così, no assolutamente. Allora andiamo a prendere alcuni esempi di congestioni inside, inside fake out, quindi vorrei prendere un po' tutto in realtà perché sono delle situazioni diciamo abbastanza simili nel nel loro nel loro essere incastrate in una struttura di mercato. Allora prendo alcuni esempi in questo caso c'ho il dollaro Canada o SD CAD, prendo il grafico settimanale al momento eccolo qui potrei prendere anche un daily ma andiamo così nella big picture questo sapete che è il grafico come time frame che io preferisco e anzi sempre per venire al discorso di prima. Se facciamo price action e ci mettiamo sul grafico a un'ora è ovvio che non è che ci sia proprio tanto da parlare. Sulla price action deve essere una metodologia tecnica che ci pone nella condizione di non dover avere nessun'altra informazione al di là di quello che dicono i prezzi. Quindi si va dal mensile al week e al daily. Questi sono i time frame principali dove andare a valutare sia un'analisi corretta sia il posizionamento di un possibile stop sia il posizionamento di un possibile target o di un'area dove molto probabilmente si può andare a prendere profitto è molto molto chiaro. Allora guardate guardate la struttura di questo mercato nella tendenza potrei andare anche indietro potrei andare indietro vediamo l'ultimo periodo gli ultimi mesi e notiamo questo cioè il mercato quando vedo delle inside che creano delle congestioni ma creano anche una struttura di swing allora sono le inside o comunque le congestioni che io posso pensare di tradare o che mi danno un'informazione operativa che poi magari posso andare a traslare in un time frame per esempio e quindi andare su quello per cercare delle conferme quindi in questo caso specifico prendo la pennetta così mi mostro bene che cosa che cosa che cosa intendo vado a vedere eccolo qui per esempio il fatto che il mercato è salito in questo modo crea questo swing ci crea congestione ecco questa congestione è una congestione in realtà creata da delle barre inside e se noi andiamo a prendere questa congestione qui quindi vedete c'è un massimo un minimo di congestione tutto sta all'interno rotta la congestione in maniera chiara viene giù il prezzo e va a fare l'altro scalino non volevo far vedere esattamente questo nel senso sì questo qui ci dà già un'informazione quindi questa queste inside sono assolutamente importanti e in più un'altra cosa guardate qua c'è lo spike quindi per me è importante poi abbiamo un'ulteriore barra importante quindi con grande volatilità non è una barra inside piccola rispetto a quella precedente è comunque molto molto estesa e ulteriore inside ulteriore inside queste due qui sono inside di un outside precedente che ha un ulteriore spike e se voi andate a prendere anche qui questo è importante alla sua rottura c'è un ritracciamento ma non va mai a sfondare al rialzo a rompere al rialzo questo livello un po' alla volta fa un'ulteriore congestione guardate qua la riprendo ecco qua quindi dopo qui che rompe questo era fa un ulteriore congestione non riesce mai a superare nemmeno certi livelli queste qui in realtà vedete non sono delle inside seppur ce n'è forse qualcuna che inside ma non sono delle inside della precedente ma sono delle congestioni quindi diciamo che la valenza che ha il tipo di congestione seppur non è inside della precedente rispetto anche a un inside non cambia moltissimo cioè quello ecco l'interpretazione cercare di contestualizzare quello che io sto vedendo quello che io sto vedendo che cos'è è una compressione molto molto ristretta dei prezzi che potrebbero portare quindi una restrizione un abbassamento della volatilità che potrebbe portare a un aumento rapido della volatilità forte violento della volatilità quindi in questo caso quando lui mi fa questo poi mi rompe al ribasso non rompe mai qui continua a schiazzarsi vedete non riesce mai quindi poi si possono prendere anche le chiusure non riesce mai eccolo qua sono arrivato giusto a spiegarvi vedete si abbassa la volatilità si schiazza e in chiusura il mercato rimane su quelle chiusure e rimanendo su quelle chiusure poi porta su breakout proprio di questi minimi che diventano e te ne fa più di uno uno due questi un po più alti tre rompe questi minimi ed è proprio lì il punto di breakout dove una volta che rompe è molto difficile che lui faccia un ritracciamento nuovo a meno che non sfalsi completamente il minimo e crea un fake out e quindi a quel punto il mercato può ripartire con la tendenza lungo precedente ma in questo caso lo schiacciamento e il pavimento che si era creato in compressione di volatilità ha creato questa rottura ha creato appunto il movimento molto forte che poi ha fatto continuare la tendenza ribassista e quindi molto importante capire anche dove sono le chiusure di questi spike anche no che partono e riprendono per andare poi a capire dove posizionare per esempio un possibile entry point ma anche uno stop loss perché perché poi ci troviamo nella condizione di dire va bene io mi vado a impostare non so un'entrata magari anche sulla breakout di questo livello e in questo caso non so vado a impostare uno stop direttamente non lo so entro qui quando lui è qua bene metto uno stop qui io non lo reputo uno stop buono quello lì cioè è vero che in questo caso è andato e non mi ha mai preso ma in questo caso specifico se devo andare a prendere tutta la situazione l'ultimo spike che fa fake out dei massimi precedenti è proprio questo quindi se io devo andare a fare un'operazione di questo tipo il modo più giusto per operare per far sì che lo stop che poi viene inserito sia uno stop dove se mi torna la fallisce la mia view è quello lì non è sopra seppur in questo caso quindi se io faccio un'entrata su questo livello perché reputo che questo sia il pavimento corretto e perché aveva fatto delle chiusure abbiamo detto eccetera quindi entro qui il mio massimo rischio cioè la perdita della mia operazione deve arrivare esclusivamente se il mercato va là e non per forza passare lo stop o cercare delle entrate di chissà che tipo questo qui come mercato parla questa lingua quindi io non posso posso anche decidere di non farla l'operazione ok ci stiamo ma il trade in questo caso va fatto in questo modo per quanto mi riguarda quindi il massimo rischio il mio massimo investimento andrà a zero quindi andrò a perdere quello che ho investito facciamo esempio ho investito 500 euro su questo trade quindi ho messo a disposizione del mercato 500 euro quindi cosa significa che io questa roba qui mi vale 500 e solamente quando il mercato dovesse ritornare sopra qui per me questi 500 ha senso che vadano a zero e che quindi posso avere uno stop loss diciamo nella mia nella mia operazione ma non prima perché metti caso che lui rompe poi ritraccia ancora e mi fa un altro spike chino mi rompe i massi poi mi ritorna e poi scende non mi avrebbe cambiato la mia view mi cambia la view quando lui ritorna solamente al di sopra di quello spike che è lo spike ultimo che crea la falsa rottura e quindi da lì ci sono i presupposti per cui se ritorniamo sopra quel livello il mercato il mercato può andare ovviamente a continuare quindi non ha più senso avete capito è molto importante perché tante volte poi si va a creare fare delle operazioni solamente perché si vuole aumentare la leva solamente perché si vuole avere rischio molto ampio solamente perché si vuole fare un certo tipo di trading e quel mercato in quel momento non lo permette che tipo di trading permette in quel momento questo avete capito e quindi posso decidere al massimo e non farlo oppure farlo avendo una pretesa inferiore rispetto a quel trade oppure stando con un'idea di tempo sul mercato più ampia e quindi poi magari in quel caso si può lavorare in un altro in altro modo avanti andate a vedere successivamente se voi andate a prendere c'è stato il movimento anche bello buono intenso ha aumentato la volatilità insomma rispetto alla all'abbassamento che c'era stato prima ha fatto un ulteriore swing che è questo quindi swing low viene rotto swing high sul swing high fa un ulteriore congestione guardate qua questa è un'inside questa è un'altra inside e questa è un'altra inside di questo di questo qui che in realtà tutta questa roba qui seppur qui ovviamente c'è stata la rottura sono all'interno di questa barra di volatilità che quindi non sono delle inside di quella ma si possono diciamo delineare in una congestione comunque anche qui come prima quindi come si tradano queste qua stessa cosa si va a capire dove il pavimento dove è il punto dove lui potrebbe avere il vero la vera spinta quindi se noi vediamo che il pavimento in chiusura lo ha fatto qui vedete come l'ha fatto qui e qui mi da anche un mini spike che mi fa la mi fa il lo swing e mi crea delle mini inside è ovvio che se lui mi rompe questi minimi rispetto a questi per me già è una rottura ormai quindi quando lui mi fa il breakout quindi questo minimo e mi rompe addirittura sotto qui addirittura conferma e mercato poi se ne va e se ne può andare insomma verso questi livelli e anche qui se devo creare un'operazione su questo time frame che è settimanale comunque io devo andare a vendere questo livello e lo stop seppur può essere interessante anche inserirlo qui perché ci può stare idealmente fa anche qui uno swing credo che il miglior punto di massimo rischio su questa posizione perché proprio si dica questa posizione sia nulla nel caso in cui io vado dentro su questo mercato è qui ok quindi dobbiamo cercare di lavorare con questa idea a mio avviso che è l'annullamento del setup cioè io in posizione il mio paracadute il mio stop dove mi si annulla il setup dove non ha più senso veramente stare dentro quel trade e spesso sono punti anche quelli lì dove in realtà si potrebbe addirittura vedere poi un movimento proprio dall'altra parte anche importante e quindi appunto non ha proprio più senso stare su questo mercato facciamo un altro esempio e l'esempio era su 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 sulla sterlina eccola qua la sterlina aveva creato invece in questo caso ma dicevamo inside compressione inside fake out benissimo vi faccio vedere una cosa da qui guardate siamo qui praticamente vedete questa situazione qui quindi da dal 7 di settembre poi dopo è partito ma fino a praticamente tutta questa zona qua fino al 26 ottobre quindi tutta questa compressione che corrisponde guardate un po con questa parte qui vedi 7 di settembre fa questo rottura e questa qui sul daily questo un settimanale questo un daily riprende qua voglio vedere farvi vedere weekly e daily per farvi capire un po la situazione allora guardate un po cosa succede dobbiamo sempre lavorare sugli swing e ovviamente sugli aumenti e gli abbassamenti di volatilità quindi in questo caso sempre stiamo parlando di compressioni inside e in questo caso vi farò vedere inside fake out andiamo a capire benissimo allora guardate qui c'è una barra di volatilità questo è l'ultimo swing barra di volatilità inside rottura allora siccome le inside e siccome la price action non è un sistema automatico e qui ve lo dico ragazzi soprattutto a chi parla male della price action delle inside delle pin bar state parlando di un qualcosa che non conoscete quindi non parlate parlate di quello che conoscete ok io di quello che non conosco non parlo parlo di quello che conosco un inside va sempre contestualizzata quindi quando io contestualizzo questa situazione so che non è che mi metto corto qui perché non mi metto corto qui perché c'è una struttura in questo caso sul settimanale che non ha nessuna non c'è nessun modo per mettersi corto lì ok bisogna leggere la struttura contestualizzare la volatilità i livelli di domanda offerta gli swing cioè e i trigger sicuramente le congestioni i mini trend le barra inside va benissimo ma dobbiamo contestualizzare cosa c'è prima altrimenti non ha senso mettiamo il robottino e perderà solo soldi e questo non è il nostro obiettivo quindi in questo caso cosa succede c'è questa inside c'è congestione una candela bassa ma siamo in una tendenza siamo in una struttura tra l'altro c'è un livello di domanda c'è tutta una struttura che non si può andare ovviamente a vendere qui qui io cosa mi aspetto mi aspetto uno swing low e quindi quelle inside in questo caso specifico non deve essere presa come prima ma deve essere presa nell'ottica invece di continuazione di tendenza e quindi nella falsa rottura dell'inside che è diverso da quello che dicevamo prima quindi in questo caso specifico qui il mercato ci forma una minimo che poi è questo eccolo qua e in questo caso specifico con la candela successiva quindi fa questo fa la rottura recupera la rottura fa quel quadratino che faccio vedere così che forma quella inside fake out abbastanza chiara in questo caso sul settimanale quindi nel caso in cui si voglia tradare direttamente settimanale è ovvio che qui dovrei porre il mio trade in apertura della in rottura scusate della della settimana successiva quindi già della settimana precedente la settimana successiva quindi quando mi rompe questo livello ma anche qui il mio stop perché annulli la situazione è qui ragazzi non è prima è lì poi io posso anche dire bene qui metto un investimento di per esempio 500 facciamo esempio però so che bene o male mi mostrerà qualcosa quindi difficilmente il mio massimo investimento andrà stop seppur può andare ma cercherò poi nell'ottica successiva di andare a fare qualcosa per esempio in questo caso dopo non la prima volta ma quando lui mi fa già un movimento diverso il mio rischio diventa molto molto più basso e diventa magari un rischio più normale quindi uno stop veramente molto molto minimo che anche rispetto al possibile guadagno che da l'operazione è sicuramente interessante vedete la dinamicità del modo di lavorare e poi se ci pensate che cosa succede succede che lui qui lateralizza ancora pa 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 lateralizza e ci fa qualcosa ci fa due situazioni particolari la prima è qui che fa una falsa rottura rialzista inside tutte inside e poi la rompe ma qui sapevamo che c'era un pavimentone perché questo pavimentone qui che vedete si nota molto bene qui era da 1 2 3 4 settimane che lui faceva pavimento vi ricordate il video sui pavimenti c'è su alcuni video passati qui sul canale andate a cercarvelo il pavimento da press action c'è un pavimento qui molto chiaro sul settimanale e questo fa una falsa rottura del pavimento quindi sfalsa i minimi precedenti li recupera come li sfalsa con un inside fake out quindi scende 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 va sul pavimento crea una inside e poi inside fake out pom pom ed ecco che qui allora si ha l'operazione tutte non tutte le operazioni sono uguale che ha un potenziale molto ampio perché in questo caso questo è il punto di entry breakout e questo è il punto di exit qui non serve mettersi tanto in modo diverso si può tenersi quei 10 pips di tolleranza ma il mercato ovviamente in questo caso parla chiaro cioè non ha senso andarsi a mettere troppo più in là perché comunque il fatto che lui mi dopo aver fatto una falsa rottura mi ritorni e mi rompa qua e mi ritorni giù è più facile che lui magari possa anche avere un movimento più repentino allora non ha più senso e lì è lo stop giusto quindi vedete anche la differenza di di trade e anche questa inside fake out quindi abbiamo una congestione papapapa e boom e su quindi c'è tutta una una struttura che fa ci sta dicendo che cosa sta avvenendo sul mercato sempre ma è molto semplice sempre andando a cercare di capire approfondire che cosa ci stanno dicendo i prezzi e non c'è un tipo di candela trado così quel tipo di candela che cosa mi sta dicendo chiediamoci il perché cosa è successo cosa sta succedendo cosa è successo nelle ultime settimane dove ha chiuso dove ha fatto l'ultimo spike dove l'ultimo swing che tendenza c'è dove è l'ultimo livello di domanda che tipo di volatilità ha avuto fino a quel livello ricordiamo come dollaro canada che era stato verticale poi ha congestionato sempre più in maniera sempre più schiacciata verso il basso e poi ha rotto al ribasso cioè guardiamo queste cose no volevo appunto farvi vedere questo poi in uno dei prossimi video vi mostrerò l'operazione che sto portando avanti sul sull'euro dollaro ve la ve la accenno e basta ve la accenno solamente perché ho tradato una congestione e un abbassamento di volatilità e in questo caso ho tradato proprio una inside bar eccola qui dopo un pavimento con vedete delle degli spike sotto quindi in questo caso in cui lo stop era ridicolo quindi pam pam inside rottura movimento tra l'altro creata inside anche precedentemente quindi c'era tutta una serie di cose per cui la compressione inside quando la sapete vedere quando la sapete vedere non parlerete più male delle inside delle pin eccetera ma di questa operazione ve ne parlerò appena si chiuderà e vi farò vedere un po' che cosa è successo va bene benissimo allora oggi abbiamo parlato di congestione inside inside fake out spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like ovviamente se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo settimana prossima ai prossimi video ciao a tutti